Se la montagna non va a Maometto, Maometto va alla montagna. Quindi, gli alieni non sono arrivati da noi, vediamo se possiamo andare noi a trovarli. Parliamo di propulsione spaziale. Per presentarmi, io lavoro nell'industria spaziale, ormai da più anni di quanto mi faccia piacere ricordare. Qualsiasi veicolo spaziale, prima di essere lanciato, deve superare una lunga serie di collaudi. Io sono specialista in una parte di tutti questi collaudi che devono fare i satelliti. È il momento in cui si verifica se la teoria corrisponde alla realtà e se le cose funzionano come pensavamo. Spoiler, non funzionano mai come pensavamo. Però, superati i collaudi, si riesce poi finalmente a lanciare. Ho lavorato su molti progetti della stazione spaziale internazionale e della stazione spaziale cis-lunare che è attualmente in progetto e costruzione e che volerà nei prossimi anni, su satelliti di osservazione terrestre e anche su satelliti scientifici, tra i quali Euclid, che studierà la materia oscura e l'energia oscura e verrà lanciato a luglio di quest'anno. Sono anche coordinatore nazionale del CICAP da qualche anno e ho una pagina Facebook che si chiama Destinazione Stelle dedicata alla divulgazione in campo spaziale e in questa veste mi sono occupato di miti e leggende molto spesso relativi allo spazio. Oggi non parleremo tanto di leggende quanto di realtà, dei sistemi attuali di propulsione e anche di prospettive, quindi di quelli che con una dose più o meno generosa di fantasia possiamo pensare di sviluppare nei prossimi anni e decenni. Quindi viaggi interstellari, cioè viaggi che ci conducano dal nostro sistema solare a un altro sistema solare all'interno della nostra galassia. Questi sono molto presenti nella fantascienza, che oggi è stata citata più volte. Addirittura nella fantascienza abbiamo non soltanto viaggi interstellari, cioè tra un sistema solare e l'altro, ma addirittura viaggi intergalattici, con espedienti narrativi basati su concetti scientifici più o meno fondati, la fantascienza ci permette perfino di visitare le altre galassie. Questo nella narrativa. Ma nella realtà che cosa succede? Questo chi di voi lo riconosce? Che cos'è? Orion, bravissimo. Questo è un vero veicolo spaziale che ha già volato e che è quello che ci riporterà sulla Luna nei prossimi anni. E ci lavoriamo anche noi europei e italiani in modulo di servizio, quello con i pannelli solari, in parte è stato costruito anche in Italia. Allora, prima di entrare nel vivo dei viaggi interstellari, facciamo una piccola digressione per cercare di capire le distanze astronomiche, perché sono distanze così lontane dall'esperienza quotidiana che sono difficili da padroneggiare. Allora, facciamo una similitudine per aiutarci a capire, o almeno a immaginare un po' meglio, l'entità astronomica di queste distanze. Ed è qui che entra in gioco il pallone. Allora, immaginiamo che la Terra sia un pallone da calcio. La Terra ha un diametro di quasi 13.000 chilometri. Riportiamo questo diametro a un diametro molto più piccolo di 25 centimetri più o meno. Immaginiamo che la Terra sia questa. Allora, se la Terra fosse grande così, la Stazione Spaziale Internazionale, che è il più grande satellite che sia mai stato costruito, sarebbe grande come una formica, come un pidocchio, sarebbe grande come un batterio, sarebbe grande più o meno 1 o 2 millesimi di millimetro, come, non so, le scherichia coli, un batterio che volete voi. Quindi completamente invisibile ad occhio nulo. Ora, cosa vuol dire viaggiare su un altro pianeta o su un altro sistema solare? Andiamo per gradi. Cominciamo a immaginare l'Italia. Su questo pallone da calcio potremo vederla molto bene, come la vediamo su un mappamondo, e l'Italia sarebbe lunga più o meno 2 centimetri e mezzo. La distanza Roma-Milano, per dare una misura, sarebbe un centimetro. La distanza tra la Terra e la Luna sarebbe più o meno la larghezza di una porta di calcio. Quindi il nostro batterio, per andare sulla Luna, dovrebbe fare un viaggio che per noi non è impegnativo, ma per un batterio, immaginate, dovrebbe andare a fare una distanza pari alla larghezza di una porta di calcio. Comincia ad essere un viaggio non banale. Ma andare su Marte, ovviamente Marte e la Terra si muovono entrambi, quindi la distanza tra loro è variabile, ma la distanza media è dell'ordine di 260 milioni di chilometri. Questa distanza, riportata al pallone da calcio, sarebbe più o meno il diametro della circovallazione esterna di Milano. Quindi per un batterio, farsi una circovallazione di Milano comincia ad essere un viaggio impegnativo. Anche per un umano, ma ancora di più per un batterio. la distanza tra la Terra e Nettuno, il pianeta più esterno del sistema solare dopo la retrocessione di Plutone, e nella realtà di qualche milione di chilometri, nel nostro paragone sarebbe 90 chilometri. Quindi il nostro batterio dovrebbe andare da Como a Piacenza. Magari non troverebbe la coda, però sarebbe sempre un bel viaggio. Infine, se noi prendiamo Voyager 1, che è una sonda di cui parlerò di nuovo fra un attimo, che si trova attualmente a 24 miliardi di chilometri dalla Terra, questa distanza sarebbe notevole, pari alla distanza tra Como e il Lussemburgo. Quindi cominciano ad essere distanze sempre più ingenti. Ma queste distanze, rispetto alla distanza che bisogna fare per arrivare alla stella più vicina, sono irrilevanti. Se noi, se la Terra fosse un pallone da calcio e il nostro batterio dovesse andare su Proxima Centauri, questa distanza, nel paragone col pallone da calcio, non nella realtà, nel paragone sarebbe quasi un milione di chilometri. Diciamo il doppio della distanza tra la Terra e la Luna. Quindi immaginate quanto è diversa la scala del percorso che bisogna fare per andare ad un'altra stella rispetto a tutti gli altri viaggi che abbiamo fatto finora con le nostre sonde spaziali. Questo per darvi un'idea della difficoltà dell'impresa di cui stiamo parlando. Ma le difficoltà non sono finite. Parliamo dei tempi. Allora, una prima cosa che forse non tutti sanno è che noi abbiamo già delle sonde nello spazio interstellare. Perché l'esplorazione dello spazio è una realtà ormai da più di mezzo secolo e ci sono delle sonde così longeve che sono ancora funzionanti pur avendo superato il confine del Sistema Solare. Ce ne sono diverse. Alcune sono ormai spente. I Pioneer non trasmettono più. Ma ce ne sono due. Voyager 1 e Voyager 2 lanciate dal JBL della California nel 1977 e tuttora attive. Queste due sonde hanno superato il confine del Sistema Solare ormai diversi anni fa. Si può definire, penso, in diversi modi il confine del Sistema Solare. Qua parliamo dell'eliosfera cioè della regione di spazio interessata dal vento solare. Le due sonde NASA hanno attraversato questo confine ormai diversi anni fa continuano a trasmettere e naturalmente trovandosi in uno spazio sensibilmente diverso da quello interno del Sistema Solare i loro strumenti possono darci delle informazioni molto interessanti. Per questo motivo al JBL hanno fatto un lavoro estremamente ingegnoso e complesso per prolungare la vita di queste sonde in modo da raccogliere ulteriori informazioni. Queste sonde sono ancora vive perché sono alimentate da generatori termoelettrici radioisotopi quindi un sistema nucleare che è estremamente durevole nel tempo per quanto l'energia prodotta si riduca più o meno dell'1% all'anno. Quindi c'è sempre meno potenza bisogna risparmiare sempre di più. Qua c'è anche una storia su cui non ci rilunghiamo ma che è affascinante perché per capire come erano state fatte le sonde per riconfigurarle tutti quelli che erano progettati erano andati in pensione. I disegni erano disegni cartacei non esistevano modelli al computer è stato fatto tutto un lavoro molto complesso per ricostruire come erano fatte e grazie all'ingegnosità del JPL dureranno ancora alcuni anni raccogliendo altre informazioni utili. Le sonde Voyager viaggiano oggi è una velocità di 60.000 km all'ora quindi qualcosa in più di 60.000 km quindi molto più veloce di qualsiasi aereo anche se naturalmente ha una velocità che è irrilevante rispetto alla velocità della luce la velocità della luce è 300.000 km al secondo qua parliamo di 60.000 km all'ora tuttavia è già una velocità più che rispettabile. Allora quanto tempo impiegherebbe la sonda Voyager 1 ad arrivare a Proxima Centauri considerando quello che abbiamo visto prima se fosse diretta in quella direzione Voyager 1 non sta andando verso Proxima Centauri ma se ci stesse andando quanto tempo ci impiegherebbe Proxima Centauri si trova a poco più di 4 anni luce da noi ci impiegherebbe 75.000 anni velocità spazio diviso tempo con Ticino elementare 75.000 anni senza calcolare il tempo necessario per rallentare nel caso volessimo poi fermarla ma sarebbe un tempo che dilaterebbe ulteriormente questo intervallo e poi considerando quello che ha detto Amedeo che dovremmo cercare anche nell'ipotesi più ottimistica la vita intelligente nel raggio di mille anni luce da noi trovarlo a 4 anni luce di distanza rappresenterebbe un colpo di fortuna poco verosimile però lasciamo perdere questa difficoltà 75.000 anni chiaramente non è un tempo ragionevole perché è ampiamente dubbio che fra 75.000 anni esista ancora la civiltà umana quindi dobbiamo fare di meglio allora e se andasse più veloce a questo punto devo farvi vedere un'immagine un po' forte a cui non insomma che potrebbe essere fastidiosa quindi quelli di voi più impressionabili magari possono girarsi da un'altra parte e l'equazione dei razzi sapete che le equazioni si dice che ogni equazione dimensi le vendite di un libro o qualcosa del genere allora questa equazione è stata scoperta più volte nella storia da diversi personaggi anche qui sarebbe una storia interessante da raccontare ne citiamo solo due il russo Konstantin Tsiolkowski e l'americano Robert Goddard oltre ad altri e qui subentra quella che è stata chiamata la dittatura dell'equazione dei razzi cioè una legge a cui è impossibile sfuggire ora questi termini sono a sinistra dell'uguale l'incremento di velocità che il mio razzo può ottenere e a destra dell'uguale la velocità equivalente di uscita dei gas moltiplicata per il logaritmo del rapporto tra la massa iniziale totale e la massa finale totale in pratica i nostri razzi tutti sono composti a più del 90% da propellente e se noi vogliamo aumentare la velocità del razzo l'aumento del propellente che noi dobbiamo avere è esponenziale se risolviamo questa equazione in funzione di Mi su Mf viene una funzione esponenziale ora si parla sempre di aumento esponenziale in modo figurato sbagliato dicendo i casi di covid sono aumentati in modo esponenziale eccetera in questo caso è veramente un aumento esponenziale e questa è una notizia terribile perché vuol dire che se io vado con un voyager a 60.000 chilometri all'ora se io voglio raddoppiare questa velocità devo aumentare la quantità di propellente di molto più del doppio se voglio quadruplicare sempre di più allora sarebbe possibile tenendo conto di questo vincolo arrivare a Proxima Centauri in tempi umani vediamo vi ho già detto che distruggo quindi non c'è molta suspense ci potremmo arrivare secondo un calcolo anche qui abbastanza elementare in 900 anni 900 anni non è proprio la gita di Pasquetta però potrebbe essere un tempo compatibile con quella che viene chiamata l'astronave generazionale cioè un'astronave grande come una città contenente al suo interno tutte le risorse necessarie per garantire la sopravvivenza non solo dei primi astronauti che la abitano ma anche dei loro discendenti quindi l'astronave partirebbe con la consapevolezza che i suoi primi occupanti non saranno quelli che vedranno la destinazione ma potrebbero esserlo i loro discendenti dopo alcune generazioni quindi questo è già meglio di 75 mila anni ma c'è un altro problema ed è quello che deriva dalla proporzionalità della massa con l'esponenziale della velocità la massa che servirebbe sono 100 miliardi di miliardi di miliardi di miliardi continuate così per 15 volte di chilogrammi 10 alla 137 chilogrammi cioè una massa superiore a tutta la massa che c'è nell'universo completamente impossibile ora la propulsione chimica non è un sistema adatto con tutta evidenza per i viaggi interstellari le cose andrebbero un po' meglio con la propulsione ionica che ha un impulso specifico più elevato ed è un sistema attualmente esistente ancora meglio con la propulsione nucleare che è un sistema che non esiste cioè le sonde attuali non funzionano con quella propulsione lì ma è concepibile farle non è diciamo una tecnologia fuori dal mondo rispetto a quella che abbiamo oggi un po' meglio ci basterebbe la massa dell'universo ne avanziamo anche un po' ma continuerebbe a essere un sistema non praticabile allora dobbiamo cercare delle alternative e adesso nel resto della presentazione vediamo qualche alternativa partendo da quelle più realistiche per arrivare a quelle più speculative più fantasiose più lontane nel tempo partiamo da qualcosa che esiste già le vele solari ora le vele solari sfruttano quella che si chiama la pressione di radiazione cioè il sole emette delle particelle non stiamo parlando del vento solare benché si chiamino vele solari non funzionano con vento solare ma funzionano soprattutto con i fotoni emessi dal sole che sono particelle che colpendo la vela e rimbalzando indietro gli danno una piccola spinta ora le vele solari rappresentano tecnologicamente una sfida perché devono essere leggere quindi estremamente sottili con uno spessore dell'ordine dei micron cioè dei millesimi di millimetro ma robuste allo stesso tempo tuttavia è possibile realizzarle e sono state realizzate questa è una foto non è un modello CAD ma è una foto vera fatta da una telecamera della vela solare Icaros che è stata lanciata dal Giappone dall'agenzia spaziale giapponese nel 2010 è una vela con un lato di 14 metri quindi una superficie di 200 metri quadrati quindi già una superficie consistente è un progetto molto bello che secondo me ha ricevuto meno notorietà di quella che avrebbe meritato tra l'altro la vela solare oltre a funzionare da vela ha anche delle celle solari quindi produce anche energia elettrica ed è stato un progetto dimostrativo che non è stato fino a se stesso ma con questa propulsione è riuscita ad arrivare fino a Venere quindi insomma un concetto già abbastanza maturo di propulsione con un satellite di piccole dimensioni ma non un nanosatellite un satellite mi sembra di 300 kg quindi è una cosa già consistente c'è un'altra vela solare molto più piccola questa è invece un CubeSat quindi un satellitino grande come una scatola da scarpe realizzata dalla NASA sempre intorno al 2010 2011 questa ha un lato di 3 metri e pochi kg di peso però comunque anche questo ha funzionato e il Giappone aveva l'intenzione dopo Icaros di realizzarne un altro per andare sugli asteroidi troiani di Giove quindi ancora più lontano con un lato di 40 metri quindi comincia a essere qualcosa di imponente non ha ancora volato non so se il programma sia ancora attivo si si è andata su Venere ma è possibile adesso non conosco i dettagli però è un po' come nelle vele si può navigare di bolina diciamo non conosco i dettagli adesso non voglio dire senza sapere però sono sicuro che è andata su Venere e mi informero dicevo le vele solari per il futuro su scala umana saranno probabilmente un buon sistema per esplorare lo spazio profondo cioè per esplorare il sistema solare no? perché ecco questa è una cosa che non ho detto prima qua parliamo di un concetto di propulsione completamente diverso da quello dei razzi i razzi sono sistemi a reazione quindi si devono portare dietro tutto il propellente finito il propellente è finita la festa no? si possono paragonare penso a un palloncino io prendo un palloncino lo lascio andare lui svolazza per un po' finché c'è dell'aria dentro poi si ferma le vele solari invece non si portano dietro il propellente ma sfruttano una fonte esterna e hanno un'accelerazione molto bassa Icaros aveva una spinta di un millinewton i satelliti non i razzi ma i satelliti hanno dei thruster con delle spinte di un newton dieci newton venti newton quindi un millinewton è una spinta molto più bassa rispetto a quelle satelliti però il bello è che finché in vista del sole non si ferma mai quindi continua ad accelerare dato che in uno spazio non c'è aria che ci rallenta la forza è uguale a massa per accelerazione finché c'è una forza io continuo ad accelerare quindi pian pianino le vele solari possono costruire delle velocità interessanti tali da renderle un sistema che si sta prendendo in seria considerazione per l'esplorazione del sistema solare per l'esplorazione di altri sistemi direi di no perché più ci allontaniamo dal sole più la spinta che ci dà dal sole diminuisce con il quadrato della distanza e forse un sistema che è stato pensato molto fantascientifico è quello di costruire delle microvele solari non abitate ma con dei chip con dei piccoli sistemi robotici a bordo accelerarle con dei fasci laser a velocità relativistiche cioè non più ai 60.000 km all'ora di Voyager ma magari a qualche decina di migliaia di km al secondo e a quel punto si potrebbe pensare di mandare non gli esseri umani ma questi piccoli mini sonde anche su un altro sistema solare ma come esplorazione umana le vede solari non sono un sistema praticabile passiamo a qualcosa di più esotico propulsione ad antimateria da qui in avanti parliamo di cose che non sono state costruite e che non vedremo costruite prossimamente l'antimateria è quella materia costituita da particelle simili alle particelle della materia ordinaria ma con alcune proprietà invertite come per esempio la carica elettrica per cui per esempio il positrone e l'antiparticella dell'elettrone è da carica elettrica positiva al contrario dell'elettrone ora quando una particella e un'antiparticella si scontrano avviene una relazione di annichilazione con produzione di raggi gamma neutrini e altre porcherie e una grande quantità di energia ha una densità per unità di massa molto superiore a quella delle reazioni nucleari e questo che le rende attraenti come un mezzo di propulsione perché in poca massa si potrebbe concentrare una grande quantità di energia ora l'antimateria esiste fin qui la buona notizia esiste l'universo e l'abbiamo costruita anche sulla terra negli acceleratori come quello del CERN la cattiva notizia è che per andare su Marte non diciamo su prossima centauri ma per andare su Marte servirebbe qualcosa come 10 grammi di antimateria e noi fino adesso ne abbiamo costruiti qualche decina di nanogrammi non di grammi non di milligrammi non di microgrammi non di picogrammi ma di nanogrammi quindi di miliardesi di milligrammi e il costo attuale della produzione della quantità di antimateria che servirebbe per andare su Marte anche trascurando tutti gli altri problemi tecnologici necessari per conservarla per costruire il razzo eccetera è un costo che è incalcolabile cioè si parla di migliaia di miliardi di dollari insomma un costo incalcolabile quindi la propulsione dell'antimateria non è imminente tuttavia diciamo è un concetto che fisicamente ha senso poi si potrebbero immaginare vari tipi di propulsione in cui si espellano direttamente i prodotti della reazione di anichilazione oppure questa reazione viene usata per scaldare un fluido di lavoro come nei razzi tradizionali insomma ci sono tante varianti comunque diciamo che siamo ancora nel campo delle speculazioni basate su qualcosa di reale che siamo sicuri che esiste ora per il resto della presentazione andiamo su qualcosa di ancora più esotico ponte di Einstein Rosen questa è una soluzione teorica dell'equazione di campo di Einstein cioè dell'equazione fondamentale della relatività generale prevede l'esistenza di tunnel nello spazio tempo che potrebbero collegare due punti distanti fra loro nello spazio o nel tempo con un percorso molto più breve di quello ordinario diciamo sono chiamati anche wormhole e wormhole vuol dire buco del verme cioè se io ho una mela e un verme deve andare da un punto sulla superficie della mela a quello opposto deve fare diciamo metà della circonferenza ma se questo verme scava un buco nella mela deve fare soltanto il diametro e quindi un percorso più breve per arrivare dalla stessa parte ma è un concetto come sapete sicuramente molti di voi meglio di me molto noto nella fantascienza lo avete visto per esempio nel film interstellar nel film interstellar è stato fatto questo esempio se io prendo un foglio di carta e lo piego la distanza per andare da qui a qui è tutta questa ma se io lo buco con una matita e ammetto di poter passare attraverso una matita posso raggiungere i due punti sul foglio di carta facendo un percorso molto più breve qua siamo nel campo della speculazione teorica non dite che Andrea Ferrero ha detto che questa cosa è possibile se no il C-CAP mi espelle immediatamente un'altra possibilità di propulsione ampiamente ipotetica è quella della propulsione di Alcubierre Alcubierre era un fisico messicano che nel 1994 ha proposto questa ipotesi anche questa basata su una soluzione all'equazione di campo di Einstein e prevede di un'astronave che si muova contraendo lo spazio-tempo davanti a sé e espandendolo dietro di sé diciamo con una metafora come se cavalcasse un'onda dentro lo spazio-tempo o si muovesse dentro una bolla all'interno dello spazio-tempo potenzialmente questa astronave potrebbe muoversi a una velocità apparente superiore a quella della luce combinando i due movimenti quello della bolla e quello della sonnale stessa senza violare diciamo i postulati della relatività generale cosa c'è da dire di questo c'è piccolo particolare che prevede una densità di energia inferiore a quella del vuoto cioè una massa negativa è una cosa che diciamo matematicamente possiamo immaginare ma non 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 abbiamo mai visto non abbiamo motivo di pensare veramente che esista in effetti adesso io qui parlo di cose che non so bene quindi spero di non dire troppi di non fare troppi errori però la diciamo questa teoria si basa su una soluzione delle questioni di campo ma ma nella teoria attuale la relatività generale e la meccanica quantistica non sono unificate un domani che fossero unificate con una teoria della gravità quantistica che oggi non esiste ancora queste soluzioni potrebbero non essere più presenti potrebbero esserci altre equazioni con altre soluzioni che eliminano questa possibilità quindi stiamo parlando di un'ipotesi puramente teorica ma anche questa è molto usata nella fantascienza un concetto simile è quello della propulsione a curvatura ampiamente usata nella fantascienza ci sono molti altri esempi di propulsione diciamo ipotetica basata su teorie io questo ve lo faccio vedere non l'ho scritto io e non mi arrivano i diritti ma se vi interessa l'argomento qua ci sono trattati nel dettaglio si chiama la propulsione spaziale avanzata trattati nel dettaglio diciamo tutti i sistemi futuribili di propulsione spaziale Luca De Rosa un ingegnere mio collega ha fatto ha lavorato anche da noi ma adesso non lavora più da noi ora per completare l'opera di demolizione vediamo qualche altro ostacolo come se non bastassero quelli che abbiamo visto finora cominciamo dalle collisioni questo è l'effetto che fa un pezzo di plastica di 14 grammi quindi un pezzettino di plastica se sbatte contro un blocco di alluminio pieno di 20 cm di spessore alla velocità di 20.000 km all'ora ok infatti sullo sciatto e sulla stazione spaziale periodicamente bisogna sostituire le finestre dello sciatto le finestre della cupola sulla stazione spaziale perché alle velocità a cui si incontra il debris cioè le piccole particelle di polvere o anche di resti lasciati da altri satelliti siccome l'energia cinetica è proporzionale al quadrato della velocità a queste velocità sono molto superiori a quelle di un proiettile di un fucile quindi l'energia che contengono queste particelle per quanto piccola è elevatissima e fa dei danni enorme motivo per cui quando progettiamo i veicoli spaziali dobbiamo fare delle protezioni apposite per resistere a questi impatti questo a 20.000 km all'ora se un veicolo si muovesse magari a 20.000 km al secondo a velocità relativistiche ma anche solo a non so un milione di km all'ora 100.000 km all'ora insomma velocità superiore a quelle attuali l'energia che va con il quadrato della velocità farebbe sì che anche microscopici granelli di polvere potrebbero distruggere il nostro veicolo allora bisognerebbe immaginare delle soluzioni si possono immaginare delle soluzioni ma queste aumenterebbero ancora di più la complessità tecnologica un altro problema sono le radiazioni questo è quello che io dico tutte le volte che mi chiedono perché non siamo ancora andati su Marte perché superate le fasci di Van Allen non è che non ci sono più radiazioni ci sono le radiazioni cosmiche che sono grazie estremamente pericolose ci causano una forma simile all'Alzheimer insomma negli esperimenti fatti e ad oggi non siamo ancora in grado di proteggerci non esiste una schermatura veramente efficace con un peso compatibile con i lanci ad oggi per viaggi dell'ordine dei mesi o degli anni questo è un grosso problema sicuramente una civiltà che sia in grado di andare su Boxima Centauri avrebbe probabilmente risolto questo problema però al momento è un altro dei problemi che bisogna risolvere l'assenza di gravità come sanno gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale riduce la massa ossea mi sembra dell'ordine dell'1% al mese la riduce parecchio e indebolisce i muscoli e quindi anche qui bisognerebbe magari immaginare un veicolo rotante che produca una gravità artificiale ma questo di nuovo aumenterebbe enormemente la complessità tecnologica e infine l'isolamento prolungato per mesi o per anni in un ambiente chiuso è un problema psicologico non indifferente che è uno dei fattori in base ai quali vengono selezionati gli astronauti e per una missione che dovesse durare decine di anni questo problema diventerebbe proporzionalmente più grave quindi è estremamente difficile per la nostra generazione e anche quelle future sarà già abbastanza difficile andare su Marte non pensiamo che noi o i nostri figli possano vedere il viaggio su un altro sistema solare tuttavia il bello dell'esplorazione è la scoperta dell'ignoto allora mi piace citare Robert Goddard questa frase l'ho messa nella mia tesi di laurea quando avevo un grave problema di salute non sapevo quale sarebbe stato il mio futuro ma non ho smesso di sognare gli esploratori sono dei sognatori e a volte i sogni si avverano quindi non sappiamo che cosa ci riserverà il futuro infine oltre al libro di Luca De Rosa altri due libri che vi suggerisco se volete approfondire cosa c'è di vero nei viaggi della fantascienza e basta con questo vi ringrazio grazie 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 grazie